Siamo in piazza della stazione per incontrare Ilaria Abidini, una delle paladine dei diritti dei diversamente abili e quindi per favorire la mobilità sostenibile. Allora, Ilaria, facciamo un po' una carrellata. Com'è da questo punto di vista la città di Arezzo per la quale tu tanto ti stai dando da fare e battagliando? Eh, purtroppo non è che si è cambiato granché, anzi non è cambiato niente da un anno a questa parte, però io comunque continuo a cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica su tutte le difficoltà che le persone disabili hanno anche ad andare in giro. Senti, non a caso ci troviamo qui vicino alla stazione ferroviaria di Arezzo. Com'è viaggiare in treno? L'hai provato? Eh sì, allora diciamo che per viaggiare in treno c'è una procedura un po' macchinosa da fare perché ci sono delle sale blu che ti permettono di avere l'assistenza per salire in un treno. Però il problema è che te devi chiamare un numero a pagamento, a pagamento addirittura al minuto con il cellulare, una volta c'ho speso un sacco di soldi e poi lo devi fare due o tre giorni prima e la cosa ridicola, se mi posso permettere, è che se qualcuno ha già chiesto il treno con l'assistenza te non ci vai. Due no, sono troppi. Due sono troppi giustamente, troppa fatica forse. Grazie a tutti. Grazie a tutti.